Bella a tutti amici, un saluto a tutti ieri di Madri 1999 del P. Allora, eccoci tornati con un nuovo video. Oggi vi porto finalmente Paul Lirola, giocatore della Juventus in prestito al Sassuolo, che in tanti lo avete chiesto praticamente da un mese. Ed eccolo. Allora, nome è Paul, cognome Lirola, nome su di Isola Lirola, nazione Spagna, Sassuolo, difensore destra, quindi è un terzino destro, maglia 20, piede preferito destro, è nato il 13 agosto del 1997, altezza 1,3 cm x 70 kg, magro, carnagione, qua è la seconda, capelli, stile lunghezza, andiamo corti, andiamoci a prendere il penultimo, rasati sotto, colore capelli prendiamo marron, questo qua, stile barba senza barba e mettiamo colore barba, il primo scuro nero. Sopracciglia, posizione sopracciglia leggermente alte e normale, forma sopracciglia allargate e giù e spesse, occhi, taglio degli occhi, giù e vicini e piccoli, leggermente in su a poco poco, dettaglio occhi 1 cadente e normale, dettaglio occhi 2 aperta e normale, e infine colore occhi marrone. Orecchie, posizione orecchio leggermente in dentro, tipo di orecchio lobo si, naso, posizione naso basso e leggermente spostato verso stretto, e con R3 una via di mezzo tra l'altro è stretta, ma proprio poco poco. Tipo di naso normale, profilo naso abbiamo curvo e in dentro e piccolo e leggermente in fuori, narici alte e allargate. Infine, dettaglio narice, strette, totalmente strette. Guance, posizione zigomi, piatti, normale. Tipo di guancia, normale, questo normale, prima volta che non... L'ho lasciato così. Bocca, posizione bocca leggermente stretto e giù e in fuori, leggermentissimo. Labbra, normale, leggermente in su, verso spesso, in tutte e due, ma poco poco. Stile labbra, su. Infine, quasi per penulti, abbiamo la mascella, mettiamo bassa e stretta e definita. Mento, squadrato e corto e normale. Questo, ragazzi, per quanto riguarda l'aspetto. Qua, ragazzi, ricordiamo sempre degli accessori come volete voi. Andiamo alle categorie. Attacco, cross 60, finalizzazione 50, testa 70, passaggio corto 60, tiro al volo 40, piedi deboli 2. Difesa, marcatura 70, contrasto piedi 75, scivolata 65. Abilità, deleghi 55, effetto 45, punizione 35, la vediamo in scala, passaggio lungo 70, controllo palla 65. Potenza, potenza tiro 55, elevazione 65, resistenza 75, forza 75, tiro dalla distanza 50. Movimento, accelerazione 75, scatto 75, agilità 65, reattività 70, equilibrio 55. Mentalità, aggressività 75, abilità tattica, ovvero intercettazione 55, posizione in attacco 65, visione 60, 60, rigori 60. Portieri invece ragazzi, questa volta ho messo 10, 10, 10, invece che 40, 10, 10, 10, 10, 10. Bene ragazzi, questo è quanto riguarda Paul Allirola, io vi ricordo di continuare a seguirmi, iscrivetevi, condividete, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, mi farebbe anche molto piacere comunque capire i vostri gusti, quindi un bel mi piace, mi piace tantissimo. continuiamo a iscriverci, siamo già a 700, in poco tempo siamo cresciti veramente a dismisura, sono veramente orgoglioso di tutti voi, grazie, grazie. Continuerò a crearvi giocatori, adesso tra una ventina di giorni uscirà anche FIFA 17 finalmente, e mi è stato chiesto sulla mia pagina Facebook, che è FIFA Creation Game, poi magari vi metto il link in descrizione, mi è stato chiesto da qualcuno di voi, di crearvi giocatori, qualcuno del Dinamo Zagabria, qualcuno dell'Aidux Palato, qualcuno anche del Maribor, Svercic mi sono in mano, se mi ricordo, ve li creerò, ragazzi state calmi, ve li creerò, non mi mettete freddo, perché comunque ho anche io qualcosa da fare, oltre comunque gameplay, ma ve li porterò, ve lo prometto, prima di FIFA 17, spero, credo che insomma altri 5-10 giocatori, usciranno più o meno, e insomma vi ringrazio ancora. Bene ragazzi, qui era Roberto Matri, con Polirola, ci vediamo al prossimo video.